Nel 2020 ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodare, un autore di svolta nella letteratura italiana per l'infanzia. Può essere l'occasione per approfondire la conoscenza di quest'autore così importante. Questo webinar ha l'obiettivo di presentare la sua produzione inserendola nel contesto della letteratura per l'infanzia ma anche in quello della letteratura del Novecento. Rodare infatti è un autore coltissimo, molto attento agli sviluppi della letteratura contemporanea. Prenderemo in esame alcune delle sue opere più note come Favole al telefono, La torta in cielo, C'era due volte il barone l'ammetto e anche altri testi meno noti ma che possono fornire degli spunti attualissimi per il lavoro in classe. Ci soffermeremo inoltre sulla grammatica della fantasia, un meraviglioso libro sui meccanismi dell'immaginazione, un'opera che in questi tempi di conformismo culturale è più attuale e necessaria che mai.